E' stato ricoverato all'ospedale Caffoncello di Treviso in codice rosso. Un turista di Bolsano rimasto coinvolto in un incidente stradale a Cavallino Treporti attorno alle 13. Lo scontro con un'altra automobile alla cui guida si trovava un turista del Trevisiano, finita poi nel giardino di un'abitazione dopo aver abbattuto il cancello e avvenuto all'altezza dell'incrocio tra via Nelson e via Igeo. Le condizioni del Trevisiano non sono apparse gravi, molto più seria la situazione dell'automobilista di Bolsano, tanto da richiedere l'intervento dell'elisoccorso per un trasporto d'urgenza all'ospedale. Sul posto la polizia locale per i rilievi.